Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il corpo senza vita di Giulia Cecchettin è stato trovato nella mattinata di sabato 18 novembre nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone. Il corpo della 22enne, come si legge su ilmessaggero.it, è stato recuperato in un canalino che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo. Sulla base delle ricostruzioni fatte dalle forze dell'ordine, Filippo Turetta avrebbe portato il corpo di Giulia giù nel dirupo, coprendolo poi con dei sacchi neri. Tra gli arbusti, i fazzoletti sporchi di sangue e, appunto, i sacchi di plastica, la scientifica ha fatto anche un altro ritrovamento vicino al corpo di Giulia. Vale a dire un libro per bambini dal titolo «Anche i mostri si lavano i denti». Forse questo libro era proprio di Giulia che, dopo essersi laureata, sognava di diventare una disegnatrice per l'infanzia. Il libro in questione è illustrato dall'autrice trebigiana Jessica Martinello ed è finalizzato a spiegare ai bambini come lavarsi i denti. Si tratta di uno dei venti oggetti che la protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha ritrovato accanto al corpo di Giulia.